Io non voglio più vedere, non voglio più vedere i nostri gestori di esercizi commerciali che non fanno rispettare le regole. C'è una regola, quattro persone sedute al tavolino devono essere quattro, se sono quattro e mezza verranno sanzionati. Dopo aver concordato con i gestori tutte le misure possibili perché potessero restare aperti, nonostante i vari DPCM, quello che si è visto sabato non ha giustificazioni, dice Bonavina. Entro venerdì sera prossimo, anche con un occhio alle previsioni meteo, la Giunta prenderà provvedimenti. Certamente si stanno valutando tutte le possibilità, su questo non c'è ombra di dubbio. Con questo però deve essere chiaro, non voglio dire che stiamo guardando la possibilità di chiudere una piazza o di chiudere il centro o di fare chissà che cosa. Ho detto che stiamo ragionando su varie soluzioni possibili. E tra queste c'è anche l'eventualità di chiudere una o più piazze del centro, anche se... Non è tanto la gente che gira per Padova, il problema è gli assembramenti che si verificano nei locali, nei plateatici dei locali, quello è il problema. Le forze dell'ordine in campo col compito di vigilare a quanto pare non sono sufficienti. Adesso valuteremo in questa settimana se per il prossimo fine settimana dobbiamo aumentare la nostra presenza. Nove i cittadini multati nello scorso fine settimana perché non indossavano la mascherina. Quattro di questi in centro, gli altri in zona stazione. Nessuno dei multati era seduto a un bar.